Non so come si fa ad aprire un racconto alle fans Aspetta allora, che mi serve un racconto Eh, questo è anche il mio Certo che si può testare Potrei saperne giusto qualcosa Non so come si può Che cosa vorresti fare però? Ne parliamo dopo No, no, ne parliamo dopo Io no, io non so niente mai Che cos'è OnlyFans? Io non lo so Pote di cavalli, sì Sicuramente